Un commento riguardante i tifosi a inizio partita di una bellissima standing ovation che le hanno riservata? Quando si fa bene, a me è capitato di fare bene da calciatore, magari i tifosi se lo sono ricordati e quindi li ringrazio per l'ennesima volta per quello che mi hanno riservato. Venire qui al Mazzella per me rappresenta sempre un motivo di gioia perché nel nostro passato c'è un'esperienza vissuta bellissima qua a Dischia e quindi per me è sempre un'emozione nuova. Per quanto riguarda il campo, i ragazzi hanno fatto il possibile, diciamoci la verità, l'avevamo preparata così perché ovviamente provare a giocarla a viso aperto con una squadra di questo spessore sarebbe stato non di consucidio ma avremmo potuto veramente fare molto molto peggio. Invece siamo stati in partita, abbiamo rischiato di fare gol, qualche ripartenza magari gestita meglio senza fretta ci avrebbe potuto portare alla rete però oggi la differenza tra le due squadre è enorme. Non mi va di parlare del singolo calciatore però è sempre il gruppo che poi alla fine eleva il singolo. Noi squadra abbiamo diversi giovani interessanti che possono fare bene. Sono fiducioso per il proseguo. Speriamo, come vi dicevo prima, di cominciare già da domenica a racimolare qualche punticino sulle altre. È ovvio, non voglio nemicarmi nessuno però se ci dovesse essere una squadra che poi alla fine la potrebbe spuntare mi fa piacere se fosse poi l'ischia dei miei amici di Enrico e di tutti quanti voi voglio dire.